Buonasera a tutti e benvenuti. Grazie innanzitutto per essere qui, grazie a ognuno di voi. Sono qui, mi chiamo Angela Leo, sono qui insieme ad Angelina Pettinato che è una scrittrice e una psicoterapeuta. Mi piace definirla un talento perché lei in realtà secondo me è un talento dei nostri luoghi, della nostra terra, dei nostri tempi perché siamo coetane, quindi un talento delle nostre generazioni. E' un personaggio straordinario anche perché ha avuto l'ardore di mettersi in discussione, di fare delle sue passioni, del suo talento, un motivo, anche una missione, un motivo di vita anche per aiutare gli altri. Quindi ci spiegherà meglio più tardi anche lei da dove è partita e dove è arrivata. Ecco, con l'ardore di voler riscoprire questo suo talento, riscopre l'uso terapeutico delle parole e da un percorso innanzitutto suo personale riesce poi a creare questo format a parole mie di aiuto, quindi di voler condividere questa sua scoperta, questo suo sapere insieme a tutti noi. Ed è quello che in breve secondo me succede anche nel libro, un libro aiuto, di fatti è un romanzo di crescita personale, significa che non è solo una storia, è sempre raccontata una storia, vi è narrata una trama, che nasconde tanto altro. È un libro molto interessante secondo me perché coinvolge un po' tutti, non solo io ma tante persone che lo hanno letto. Abbiamo avuto l'impressione che il libro non tanto parlasse con noi, ma proprio parlasse di noi, come nella vita dei personaggi ci si potesse rivedere, rispecchiare e riaprire, se non era già aperto, un dialogo interiore, un dialogo con se stessi. Quindi un libro che offre molti spunti di riflessione, che arricchisce tantissimo la crescita personale di ognuno di noi. Il dialogo interiore è la prima riflessione, ecco, il primo spunto che mi viene in mente. E dal momento che tu proponi l'uso terapeutico delle parole, ti chiedo quanto è importante sapersi parlare bene, innanzitutto saper parlare bene con se stessi e poi anche con gli altri. Quanto fa la differenza? Allora, intanto grazie. Grazie, grazie di aver voluto così fortemente ad un passo da noi qui nella tua città. Ti ringrazio enormemente, così come ringrazio tanto Rossella Albertini per l'impegno profuso per l'organizzazione di tutto l'evento. Voglio ringraziare anche l'amministrazione comunale, la Proloco e l'associazione Fiori di Lino, che anche attraverso Libri TV sta riprendendo l'evento. Perché prima di rispondere a questa domanda faccio tutti questi ringraziamenti? Perché, come abbiamo anche potuto sperimentare nel corso che abbiamo appena vissuto sulla felicità, la gratitudine è uno strumento potente per entrare meglio nel proprio dialogo interiore. Imparare a dire grazie agli altri è anche un modo per imparare a dire grazie a se stessi. Quindi un dialogo interiore che si nutre di buone parole, di gentilezza, di gratitudine è un dialogo di guarigione. Io in questo ultimo periodo parlo spesso di guarigione, ne scrivo spesso nei vari social perché ritengo sia fondamentale sottolineare quanto il concetto di guarigione sia legato alle parole che noi utilizziamo nei confronti di noi stessi e nei confronti delle altre persone. E come il cambiamento del dialogo determini anche un cambiamento della qualità di vita propria e delle persone che più amiamo. Quando impariamo a utilizzare nel senso terapeutico le parole non può più la rabbia, la paura, la frustrazione che sono emozioni e sentimenti importanti per la nostra crescita non sono più distruttivi ma diventano strumenti utili per crescere. Noi abbiamo fatto adesso, proprio adesso, insomma qualche ora fa, proprio un lavoro su questo. E quindi insieme alla parola grazie per migliorare il proprio dialogo interiore c'è un'altra ancora più potente che è quella del perdono. Inteso come dono che noi facciamo agli altri e a noi stessi. Quando noi impariamo a perdonarci accettando ciò che noi siamo liberiamo, facciamo uscire fuori la cosiddetta energia pesante cioè ciò che ci appesantisce e ci impedisce di raggiungere le nostre mete, i nostri obiettivi. Altrettanto potente è il perdono nei confronti delle persone che consciamente o inconsciamente ci hanno fatto del male. Lì è tanto difficile perdonare una persona che gli ha fatto del male. Eppure è un processo necessario per poter essere felici. Intesa la felicità come un dovere che noi abbiamo di realizzare nella quotidianità le nostre piccole imprese. Dicevo, facevo l'esempio del caffè la mattina, ci svegliamo, andiamo a preparare il caffè, ma che pensieri abbiamo mentre prepariamo il caffè? Pensiamo a che tipo di pensieri e se quei pensieri sono già rabbiosi di prima mattina, resettiamo. Proviamo a preparare il caffè avendo in mente e nel cuore buone parole. Per chi berrà quel caffè, per chi ci incontrerà dopo aver preso il caffè. Vi assicuro che nel tempo cambia davvero il tipo di relazione che voi avete con voi stessi e con le persone. Non so se ho risposto. Per tornare al libro, che è il nostro argomento principale, il libro narra la storia di un percorso fatto al contrario, perché ambientato nell'intorno al 1700, ci racconterai anche di questa data un po' particolare dopo, ed è un cammino al contrario, è un cammino che da Santiago torna a Roma. Ora di solito noi siamo abituati a vedere il cammino fatto da qui verso Santiago. In realtà è un ritorno e anche qui c'è un po' una similitudine, una metafora con quello che accade in ognuno di noi. Questo percorso al contrario, all'interno di se stessi, questa ragazza molto coraggiosa che viaggia affidandosi al proprio sentire e alle proprie scelte. Che cosa significa scegliere di fare questo cammino al contrario? Intanto abbiamo chiuso un cerchio con sentire, Angela. Abbiamo fatto questo giochetto con le parole, a lei è arrivata la parola sentire, per cui adesso ho chiuso io il ciclo. Io ho scelto di far fare un percorso ritroso. Metaforicamente perché è quando tu inverti il senso di marcia, cioè decidi di entrare dentro di te, che scopri che cosa devi migliorare e in che modo tu puoi continuare il tuo cammino. Chi è che mi ha ispirato in questa cosa? Al di là del mio bagaglio da psicologa, mi hanno ispirato proprio i pellegrini che ho incontrato durante il mio percorso, durante il mio cammino di Santiago. Io rimasi molto stupita dal fatto che mentre noi andavamo verso Santiago, io vedevo persone che tornavano indietro e non capivo che cosa stessero facendo, finché incontriamo una coppia, avranno avuto 70 anni a testa, più o meno quella era l'età, di Cuneo. Queste persone erano partite ad aprile a piedi da Cuneo e ritornavano a Cuneo a piedi prevedendo di arrivare a fine settembre, inizio ottobre. Questa cosa a me mi ha particolarmente sconvolto perché intanto mai avrei immaginato di incontrare due settantenni che avessero avuto questa idea di partire proprio a piedi da Cuneo, ma poi tornare anche a piedi è veramente qualcosa di straordinario. Questa cosa ha acceso dentro di me la curiosità di capire che cosa succede, non quando vai a meta, ma quando ho raggiunto la meta torni a casa. E quindi credo che, chiudo oggi un cerchio su questa cosa, credo che proprio quella coppia mi abbia ispirato a fare questo passaggio, questo tipo di narrazione. E ribadisco, più tu torni dentro di te, quindi fai il tuo viaggio a ritroso, più si sciolgono i nodi che nel tempo magari abbiamo costruito per le esperienze che abbiamo vissuto, più chiara è la visione di te nel presente e nel futuro. Perché attraverso il cammino si aprono le visioni e quindi si aprono anche le illuminazioni e il sentire che cosa effettivamente tu vuoi fare della tua vita. Nel libro la protagonista si affida sia al suo sentire, sono fondamentali però tutta una serie di disegni, di simboli, di numeri in cui tu credi tantissimo, infatti nel libro questa cosa traspare molto. Il fidarsi di questi simboli, quasi come fossero lì per noi, come chiedersi il caso esiste, non esiste, questi simboli che significato hanno? Io all'inizio in questi segni e simboli mica ci credevo, nel senso che non pensavo nemmeno che esistessero. mia madre me l'ha sempre detto, mia madre è una persona molto religiosa, molto cattolica, e mi ha sempre detto Higlia ma state attenti agli segni du signore. Però io non capivo effettivamente che cosa lei volesse intendere. E poi è successo, è successo che io a maggio di qualche anno fa, mentre ero al telefono, disegno un simbolo, disegno un trifoglio. E poi, curiosa come sono, sono andata a cercare su internet il significato di questo trifoglio. E scopro che il trifoglio era un simbolo sacro per gli antichi celti. Io amo questa civiltà, amo la civiltà celtica, mi piace molto approfondire il loro modo di rapportarsi con la natura. E quindi scopro che il trifoglio è un simbolo importante di integrazione tra cielo e terra, di integrazione tra il materiale e lo spirituale. E quindi decido che da quel momento in poi il trifoglio sarebbe diventato il mio simbolo. E lo lascio lì. Nel frattempo io inizio a scrivere il romanzo e quello che è il primo capitolo, quello che pensavo sarebbe stato il primo capitolo, in realtà poi è diventato l'ultimo, mi procuro una grande fatica di scrittura. Ci impiego veramente un sacco a scrivere questo capitolo. Poi sparisce l'ispirazione e dico, adesso che faccio? Io volevo scrivere questo libro, ma sono costretta a fermarmi perché l'ispirazione non c'era. E quindi dico, parto per il cammino di Santiago. Parto per il cammino di Santiago e lì ogni giorno io trovo situazioni, persone e simboli che mi faranno credere, mi convinceranno del fatto che il caso non esiste per il resto di niente. Alla fine del mio cammino, il cammino finirà a Finisterre, in un negozio io trovo il mio simbolo. Non l'avevo trovato durante i giorni precedenti, nemmeno arrivando a Santiago. Allora dico, vabbè, ok, io l'avevo disegnato per caso, che non esiste. Avevo detto, vabbè, da questo momento sei il mio simbolo, poi io faccio il cammino, mi succedono un sacco di cose durante il cammino e l'ultimo giorno a Finisterre, quindi l'ultimo giorno del mio cammino, che cosa vado a trovare in un negozio? Vado a trovare degli orecchini con il mio simbolo. Allora dico, wow. Significa che devo lavorare sull'integrazione tra cielo e terra, cioè sul mio spirituale e il mio materiale, che in quel periodo della mia vita, devo dire, erano abbastanza, come posso dire, separati, come se ci fosse ancora dentro di me attivo il dualismo cartesiano, tra il pensiero e il corpo. E quindi comincio a lavorare sul concetto di integrazione. Quindi qualcosa costruito così, mentre stavo al telefono, diventa un simbolo importante nella mia vita. E durante il cammino ne trovo tanti altri. Durante il cammino io troverò tutti i giorni i cuori e l'unico giorno in cui non lo trovo lo costruisco io per chi verrà dopo di me. Perché mi dico, se io ricevo così tanto e ricevo ciò di cui ho bisogno, cioè se il cuore che ricevo mi fa stare bene e un giorno io non lo ricevo, perché non costruirlo per chi passerà dopo di me su quella strada? E quindi quel tipo di ragionamento che ho fatto mi ha fatto lavorare sul dare e ricevere, di cui abbiamo diffusamente parlato durante il corso sulla felicità. E ancora, durante il cammino, troverò anche una croce con dentro un cuore all'interno del quale c'era scritto Gesù. e dico, come mai sono passate le mie compagne e non l'hanno visto? Passo io e lo trovo. Probabilmente perché sono io che devo prendere il segno. Quindi prendo questa medaglietta, la porto con me. E ancora, vi assicuro veramente un'abbondanza di segni e simboli durante quel cammino. Il terzo giorno io ho il mio numero il tre. Le cose migliori della mia vita accadono quando c'è di mezzo il tre. Tre e moltiplici di tre. Terzo giorno, noi partivamo presto. Partivamo intorno alle sei e mezza. In Galizia alle sei e mezza ancora è buio. Quindi avevamo questo onore poi di vedere il sole sorgere. Ma quel giorno il sole sorse più bello degli altri giorni. Una visione veramente straordinaria. E io ero contenta. Ero contenta perché dico, wow, la giornata già mi ha portato il significato. Perché poi alla fine delle giornate, quando cammini, cammini, cammini per sette, otto ore e ti siedi, stanca, poi cerchi di capire che cosa ho imparato oggi, che cosa è successo oggi di bello. Allora mi sono detto, cavoli, già dopo mezz'ora ho già capito che cosa mi è successo di bello. In più avevo ricevuto questa notizia della mia amica, mi manda un messaggio, mi fa, so che stai meditando, ma vorrei dirti che la Regione Calabria ha pagato. Quindi c'era anche questa cosa di riconoscimento che avevo ricevuto questi soldini che aspettavamo da tempo. Quindi ero felice. L'alba, i soldini arrivati, dico, vabbè, oggi che cosa è successo di bello, è successo questo. In realtà la cosa più bella stava per accadere. Eravamo in cinque. Noi siamo partiti in cinque. In quel momento eravamo in fila indiana. Due davanti a me, io terza posizione, le altre due dietro di me. Arriviamo sul bordo strada, c'è un vecchietto. Questo vecchietto mi guarda e mi sorride. Io molto scioccamente penso, ma adesso perché mi sorride? Io sono pure ambasciatore del mondo di yoga e di sata, non dovrei proprio farmela questa domanda. A priori non dovrei fare, invece io scioccamente mi faccio la domanda e altrettanto scioccamente mi do una risposta sciocca per l'appunto. Cioè penso che questo vecchietto volesse chiedermi l'elemosina. Non riuscivo a capire che cosa potesse esserci oltre quel sorriso. Mi avvicino, mi avvicino, sorrido anch'io e lui mi fa, sono Herrera, porta il mio bastone a Santiago. Afferra la mia mano e mi dice come portare il bastone. Questo bastone era stato appena fatto, era ancora fresco, un bastone unico, il cui manico era a forma di freccia. Lui prende la mia mano e mi dice come portare questo bastone. Io mi commuovo profondamente, appoggio la mia testa sul suo cuore, lo ringrazio, facciamo una foto, e riprendo il cammino. In quella giornata se non mi fossi fermata dopo qualche ora avrei forse camminato, in genere noi camminavamo circa 30 chilometri, secondo me io li avrei fatti 50. Tanta e tale era l'energia di quell'incontro pazzesco con questo vecchietto. Dopo scoprirò che il vecchietto era zoppo e che quindi darmi il suo bastone per lui deve essere stato molto importante. E qualche centinaio di metri più in là mi metto a piangere. Ma non quel pianto, esistono diversi pianti, c'è il pianto di gioia, c'è il pianto di dolore e poi c'è il pianto di consapevolezza. C'è questo terzo pianto che esplode in questo pianto e in quel momento io avverto la presenza accanto a me di mio nonno Giuseppe. Dico è qui, è qui accanto a me. Ora, guardate, e poco importa se questa cosa sia successa veramente. Quel che importa è che io ho sentito la presenza di questo, di mio nonno e questa cosa mi ha dato ancora più energia per arrivare a Santiago. Devo dire che è il bastone che ha portato me a Santiago e non io il bastone a Santiago. E questo è stato un simbolo molto potente. E arrivando poi a Santiago qualche giorno dopo, il mio amico mi dice guarda che è difficile che tu possa portare il bastone il bastone dentro per ragioni di sicurezza, insomma. Io dico, guarda, se il bastone deve restare fuori, resterà fuori. Il mio compito era portarlo qui e io provo a portarlo dentro. Il bastone è entrato nella cattedrale di Santiago. Siccome avevo un po' paura che qualcuno mi fermasse, ma poi non sarebbe successo, entro nella prima cappella a disposizione che avevo per nasconderlo lì, lo nascondo vicino all'altare, esco fuori e scoprirò che quella era la cappella di San Giuseppe. Grandissima emozione. Per me ancora oggi sono fortemente emozionata per questa cosa. E poi, che cosa succede prima di arrivare a Santiago? Che poiché io avevo l'abitudine di scrivere i post su Facebook per raccontare quello che di bello mi accadeva in quelle giornate, questo bastone è stato costantemente riempito degli intenti che le persone mi scrivevano. Allora, tutti mi dicevano qualcosa, porta questo pensiero, porta una preghiera, porta... Io ero partita per Santiago con il solo desiderio di camminare. Io non avevo intenti spirituali, non avevo intenti religiosi, avevo solo la voglia di capire se ero in grado di camminare per tante ore consecutive con uno zaino sulle spalle. Era l'unico intento. E poi ho scoperto, camminando, che più cammini, più tu scopri te stessa. E quindi, tutti questi simboli e tutte queste situazioni mi hanno indotto a credere che il caso non esiste è che se noi siamo bravi a cogliere ciò che ci accade, siamo anche capaci di dare più impulso alla nostra vita e di dare la direzione che davvero noi desideriamo. Ovviamente, occhi aperti. E per occhi aperti intendo occhi, cuore, corpo aperto. Perché quando tu integri l'aspetto spirituale, quindi ciò che tu sei con il tuo corpo che è il tempio all'interno del quale tu realizzi te stesso, allora tu davvero ti offri l'opportunità di essere felice. Mi aggancio, scusa, mi ha proposto di tempio. Benissimo, perché è una parte bellissima del libro quando la protagonista si ritrova nel tempio. Il libro viene letto su più dimensioni, secondo me. C'è la storia, c'è una dimensione animica che è anche la memoria. Infatti tu nel libro dici anche coltiva la tua memoria. Ecco, innanzitutto spiegaci che significa coltiva la tua memoria, in che modo è. Può esserci utile. Poi ti chiedo della cattedrale, sì. Ok. Allora, io durante la scrittura io il 90% di questo romanzo l'ho scritto in scrittura automatica e in 20 giorni. Cioè se è il primo capitolo ormai ultimo ho impiegato oltre un mese per scrivere il 90% del libro ci ho impiegato 20 giorni. Proprio sono andate di flusso. E mentre raccontavo, quindi mentre inventavo delle storie, mi rendevo conto che la memoria è fondamentale per riscoprire se stessi. Cioè tu chi sei? Tu chi sei? La memoria va coltivata. Quali sono le tue radici? In che modo le tue radici ti parlano? In che modo ti fanno crescere? E in questo senso io devo molto a mia madre e a mio padre perché loro mi hanno molto parlato. Loro mi hanno molto raccontato. E raccontandomi il loro modo di vivere e loro essere stati bimbi, loro essere stati adolescenti, poi adulti, mi ha aiutato a comprendere quanto è importante sentirsi parte di qualcosa di più grande di te. E questa cosa tu la fai tua quando ti predisponi all'ascolto del tuo vuoto, del tuo silenzio e di tutti i racconti delle persone importanti della tua vita. Quindi coltivare la memoria significa darsi l'opportunità di essere autenticamente se stessi. Ti soddisfa la risposta? E poi volevo chiederti del tempio, dell'arrivo di Giulia nel nel tempio e anche la sacralità non solo del posto e il momento della Dea Veste e raccontaci un po' di questo tempio. In questo romanzo ci sono un po' di idee. Idee e idee. ce ne sono tre importanti. La prima è Vesta che è la Dea del Fuoco. Vesta era una Dea molto venerata tra gli antichi romani. Era molto importante che il fuoco in questo tempio rimanesse acceso se si spegneva il fuoco in questo tempio i romani andavano in trip perché significava sciagura certa. Quindi c'erano le vestali queste sacerdotesse che erano molto attente a che questo fuoco rimanesse acceso. Questa cosa mi ha particolarmente preso. io non ricordo più perché ho scelto le vestali. Non saprei dirti che cosa adesso mi ha portato a scegliere le vestali. Sta di fatto che metaforicamente Vesta che è la Dea del Fuoco ci dice tieni acceso il talento che è dentro di te qualunque esso sia ti piace ballare tieni acceso la danza ti piace cantare tieni acceso il canto qualsiasi cosa ti fa vibrare dentro tu tienilo acceso perché è vero che se si spegne questo fuoco sciagura perché tu perdi te stesso e quindi Vesta e quindi le vestali intorno a lei rappresentano metaforicamente questo perché io dico che è un romanzo di crescita personale perché invita a fare una serie di passaggi il primo è tieni acceso il fuoco che è dentro di te quindi quando Giulia arriva nel tempio e quindi in qualche modo comprende che era stata l'Elia c'è anche un po' un discorso di reincarnazione ma intesa proprio come rinascita come rinascita come ok adesso ho capito chi sono inteso proprio in questi termini quando Giulia arriva nel tempio e quindi chiude il cerchio di essere stata l'Elia capisce che suo compito per essere felice sarà quello di tenere sempre acceso il fuoco dentro di lei perché a lei che cosa è capitato che lo ha spento e che quindi ha dovuto riprendere un nuovo cammino per chiudere il suo cerchio perché se noi non impariamo a chiudere i cerchi quindi a vivere i cerchi quei cerchi rimangono aperti e le situazioni si ripetono e si ripetono all'infinito fin quando tu non hai il coraggio di chiudere e io dico spesso se tu chiudi la porta non accade nulla di male perché la porta è fatta per aprire e per chiudere io non dico mura io dico chiudi la porta o apri la porta e questo fa la differenza quindi Vesta insegna questo a Giulia che si ricorda di essere stata sacerdotessa cioè chi protettrice di se stessa perché possiamo anche fare i maestri nella vita ma un solo maestro c'è per la tua e sei tu e lei lo ha scoperto così camminando e l'epilogo poi di tutto il romanzo si conclude anche con una con una serie di superamenti di blocchi di paure che comunque in qualche modo attanagliavano i protagonisti e in qualche modo la chiave è stata forse la forza dell'amore quello che comunque chiude e questo forse che serve per chiudere il cerchio domanda bellissima riflessione bellissima perché mi permetti di dare a chi è presente un'altra parola è una parola molto bella che è munai è una parola degli antichi inca in questi ultimi mesi ho avuto l'opportunità di approfondire l'antica tradizione degli inca e di conoscere le parole che loro utilizzano per vivere il mondo e vivere il loro rapporto con la natura tra le tante parole straordinarie di potere che loro hanno c'è proprio munai quindi se noi in italiano abbiamo la parola amore e la parola forza di volontà quindi sono due parole distinte quindi noi possiamo dire ama per forza di volontà quindi la dobbiamo fare proprio costruire una frase cinque parole gli inca le dicono una munai in munai c'è amore e forza di volontà per gli inca non c'è amore se non c'è forza di volontà non esiste l'amore dicono gli inca senza forza di volontà è un capriccio l'amore è potentemente di guarigione quando è legato alla forza di volontà e quindi sì grazie perché mi permetti proprio di portarvi questa potente parola terapeutica quindi da oggi quando pensate all'amore provate a dire munai e quindi a metterci la forza di volontà che è ciò che alimenta l'amore è ciò che lo rende potente è ciò che lo rende terapeutico di guarigione fine game over questo vi consiglio assolutamente di leggerlo perché è una lettera nuova sì scusa è una lettera nuova leggera per quanto sia ricca di argomenti sembrano gravosi impegnativi trattati in maniera molto leggera attraverso la storia di questi personaggi il libro mi ha rapito tantissimo e quindi lo consiglio sì grazie grazie di averlo scritto grazie 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 con la realtà la realtà la realtà ha iniziato la realtà la realtà appena io ho abolito la parola caso la realtà ha iniziato a parlarmi in un modo diverso faccio un esempio che ne ho parlato adesso prima di iniziare la presentazione con Angela io sto portando avanti questa cosa delle parole no? e quindi dico guardate che le parole sono terapeutiche utilizzate con cura e con munai guariscono no? porta avanti questo mio assunto che ho verificato nel tempo in questi ultimi mesi io sto coltivando il sogno di entrare nei reparti oncologici per sostenere le persone che hanno questo tipo di malattie anche da questo punto di vista cioè lavorando insieme a loro con parole potenti parole costruttive parole positive ora mi arriva un messaggio mentre io stavo facendo il corso una mia cara amica io non la vedo da anni io sono diventata psicoterapeuta nel 2008 credo adesso non ricordo più era una mia compagna di classe diciamo e non l'ho vista per anni l'altro giorno mette un mi piace su un post le chiedo l'amicizia oggi mi scrive e mi dice la prossima settimana qui da me raccoglieremo fondi per il mio reparto oncologico è un caso per me non è più un caso per me è che le cose mi si stanno allineando perché io ho capito che cosa voglio fare avendo capito che cosa voglio fare a me sta accadendo di incontrare situazioni e persone che mi aiutano a realizzare ciò che io ho nel cuore quindi io non credo più nel caso credo nel fatto che quando tu prendi coscienza di ciò che tu vuoi fare tutto si allinea e quindi con che cosa ho sostituito il caso l'ho sostituito con realtà guardata e vissuta in questo modo io credo che non io credo che non ci sia non ci sia mali per caso io credo che si creino delle concatenazioni che portano la persona ad ammalarsi concatenazioni non è una sola cosa ma tante cose che si mettono che si mettono insieme perché io credo che l'anima non è qualcosa che è distinta dal corpo io penso che l'anima è il corpo sia un'anima incarnata e quindi ciò che io alimento non solo con il cibo ma alimento anche con i pensieri con le azioni determina il mio stato determina il mio stato di salute o il suo contrario e quindi no io non penso io non credo che la malattia arrivi per caso io credo che la malattia arrivi come come uno scombussolamento chimico e vibrazionale certo sì sono d'accordo uno scombussolamento in questo oppure c'è io credo quello sono questo sono d'accordo siamo noi sono d'accordo sono io sono d'accordo io sono d'accordo io sono molto d'accordo su questa cosa sono d'accordo sul fatto che siamo noi che diamo significato a ciò che ci accade e il modo e il significato che noi diamo a ciò che ci accade determina anche la direzione che noi diamo alla nostra vita cioè per ritornare all'esempio mica a me importa stabilire scientificamente se mio nonno Giuseppe che è morto da oltre vent'anni in quel momento fosse con me a me quella cosa a me non interessa stabilire questo a me interessa che in quel momento io ho provato quel sentire che mi ha dato maggiore forza per camminare poi è vero non è vero ma che importa mi ha dato mi ha dato questo tipo di energia e quindi io con questa energia ho camminato quel giorno e con la stessa logica io la stessa logica lo stesso sentire io lo applico a tutto il resto cioè a tutto quello che a tutto quello che mi accade perché io ho provato sulla mia pelle che fin tanto che io sono stata negativa mi sono accadute cose negative quando io ho cambiato il mio modo di guardare la realtà la realtà mi ha risposto in un modo diverso perché io l'ho cambiata esatto 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 ecco ma quando cambia questa prospettiva ti cambia la vita cioè cambia cambia proprio la vita no no ma è molto interessante il dialogo che si sta creando assolutamente no no il dialogo è molto è assolutamente bellissimo il dialogo che si sta creando ognuno poi ovviamente ha le sue prospettive ha le sue esperienze di vita e le mette le mette diciamo in condivisione quello che a me sta io sto raccontando in giro quello che sta accadendo quello che sta accadendo a me e poiché quello che sta accadendo a me è positivo e avendo io l'intento che a tutti accada qualcosa di positivo io che cosa dico ti racconto la mia storia ti racconto che cosa è successo a me nella speranza che ciò che è successo a me ti aiuta a stare meglio questo è quello che io dico quindi ho creduto mi ha fatto bene mi ha fatto bene trovare il cuore sì e quindi te lo racconto tu troverai un cuore magari non ti farà bene ok a me ha fatto bene te lo racconto in questo senso cioè se noi impariamo a trasmettere all'altro ciò che ci ha fatto bene l'altro ne avrà maggiore beneficio al di là di quello che poi incontrerà perché ognuno incontrerà la sua storia farà le sue esperienze incontrerà le persone che dovrà incontrare eccetera eccetera il mio compito e la mia missione è condividere ciò che di buono sta accadendo nella mia vita mantenendomi anche spiritualmente laica in questo senso cioè è una cosa che a me piace molto perché sono molto rispettosa di tutte le religioni di questa terra e quindi e quindi no? ecco e quindi e quindi esatto e quindi io dico costruisci il segno e donalo boh poi accade quello che deve accadere questo è il mio compito quindi grazie mille di avermi permesso attraverso le riflessioni di poterla approfondire di più e di poter dire che cosa che cosa ne penso ci sono altre domande? altre riflessioni? io sto pensando una cosa sì a proposito della positività no? che tu hai detto se una persona pensa al positivo no? se una persona è quindi la positività è essere aperti agli altri alla situazione alla vita sei aperto considerando la nostra vita una casa che ha le porte le finestre che ci permettono poi di comunicare con il resto del mondo se uno è positivo è molto positivo ha tutte le porte le finestre aperte ripensando a certe situazioni ma io voglio dire scusa questo vado all'impersonale ma non è non è questo che mi porta a parlare ma se uno è troppo positivo c'è qualcuno che se ne può capire se la casa è troppo aperta qualcuno entra dalla parte perché comunque adesso in questo ambiente siamo via le porte e finestre e comunque sono in questa direzione io non so se la porta là dietro che ho lasciato aperta dalla porta che è rimasta aperta tentando qualcuno e mi può comunque ci può fare del male di ora quindi la positività non è tu hai detto scusa faccio un po' rimanere un po' il punto e aiuta e retro pensate positivo perché comunque la vita vi risponderà in modo positivo va benissimo e quindi guardiamo il mezzo pieno e non il mezzo vuoto sarebbe quello che io ho e quel male che io non ho guardo se ho qualche soldo in tasca e ce l'ho e non penso a quei tanti soldi che non ho che non mi interessano nemmeno però essere positivi troppo positivi quindi senza quel senso di protezione verso se stessi porta ad accadimenti negativi perché io posso potrei testimonare di questa cosa non mi ritengo una persona negativa e ci sono stati periodi e sono contenta non mi accontenta sono contenta di poco cioè godo di poco e ringrazio il cielo come si voglia chiamare delle piccole ricchezze che sono grandi ricche però non è la sola regola di essere positivi però allo stesso tempo bisogna un attimino salvaguardarsi che cosa ne penso te parliamo la metafora che tu hai utilizzato è secondo me la risposta tu dici ci diamo del tu tu dici se tu lasci le porte aperte in questo momento non so la porta che sta dietro di me è aperta arriva qualcuno l'ho lasciata aperta qualcuno può farmi del male hai detto più o meno questa cosa qua e quindi io l'ho lasciata aperta per un eccesso esatto esatto infatti yeah c'è proprio yeah questa cosa così ok d'accordo allora intanto l'eccesso di positività non è positività perché appunto è un eccesso cioè la porta è la metafora che trova la soluzione la porta è quella quello strumento che noi abbiamo a disposizione per far entrare e far uscire quindi la porta si apre e si chiude essere positivi non significa lasciare le porte spalancate tutti i giorni in ogni momento della nostra vita da yeah essere positivi significa utilizzare con saggezza le porte ci sono dei momenti in cui le porte vanno aperte altri momenti in cui le porte vanno chiuse cioè quando io dico essere positivi non dico yeah cioè non mi pongo in questa condizione mi pongo in una condizione di essere costruttiva nei confronti della realtà e di capire quando la porta deve essere aperta e quando invece deve essere chiusa perché è giusto andare avanti spingersi oltre così come è giusto anche proteggersi non sono due attività che si escludono a vicenda sono due attività complementari che ci permettono di stare in equilibrio quindi non siamo in eccesso di positivi per me l'eccesso di positività è un modo diverso di essere negativi di stare nella negatività diversamente negativi dicevo che diversamente negativi quindi cioè la porta è la metafora più calzante che c'è per darci la soluzione alla questione la porta si apre e la porta si chiude poi chi è che mette mano alla maniglia? tu quindi sei tu che decidi quando aprire sei tu che decidi quando chiudere non so se ho risposto quindi quando cresci con porte chiude impari ad aprirne qualcuna e questa necessità diventa come l'affamato che poi si trova probabilmente una tavola in bandita e si butta il capo quinto non si sa più non si sa regolare andiamo poi nell'eccesso no? e quindi ritorniamo al concetto di imparare ad aprire e a chiudere le porte secondo la situazione secondo le persone secondo il proprio sentire imparando dall'esperienza di aver chiuso dell'esperienza di aver aperto non so se ho risposto molto molto di più delle parole grazie molto bene molto bene yeah ok il necessario silenzio va bene allora io chiudo adesso andiamo a chiudere la porta ringraziandovi di essere venuti di avermi ascoltato e quindi di avermi donato parte del vostro tempo io mi auguro di esservi stata utile il mio intento era esserlo io continuerò il mio cammino so che ho tanti altri cammini a ritroso da fare per crescere per scoprire questo mondo e per capire in che modo continuare continuare a costruire ancora una volta grazie a chi ha ha voluto che io fossi qui qui in questo in questo momento ci sono tornata con grande con grande devo dire con grande emozione perché la mia carriera è nata è nata qui a Soveria la mia prima esperienza lavorativa io l'ho fatta qui alla cooperativa il il girasole per cui tornare dopo 13 anni mi 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 emoziona mi emoziona particolarmente quindi in questo grazie c'è un grazie alle persone che in quel lontano 2005 hanno camminato con me ai ragazzi che ho incontrato le persone che ho incontrato in quel periodo qui c'è Giovanna è un modo per dire grazie attraverso di te a tutte le persone voglio ringraziare ancora una volta Graciela di essere venuta e di aver esposto i suoi i suoi quadri e di aver quindi risposto al mio desiderio di poter raccontare la felicità dal mio punto di vista anche attraverso la sua creatività e le sue le sue immagini che dirvi se non ancora una volta grazie mille e così come io dissi quando arrivai in cattedrale a Santiago durante il rito del Bota Fumeiro possiate essere esauditi nei vostri desideri più profondi purché al servizio del bene di questa nostra umanità grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti